La giunta comunale ha approvato su proposta dell'assessore allo sport Ciro Borriello due delibere che prevedono lo stanziamento di 80.000 euro per recuperare l'agibilità del pala barbuto e riportare la capienza dell'impianto di fuori grotta a 4.000 spettatori. Contestualmente sono stati avviati con la società Cuore Napoli Basket i primi accordi su possibili interventi per rendere il complesso sportivo immediatamente fruibile per le gare di campionato. Con una nota indirizzata al Ministro per la Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, il sindaco Luigi De Mangistris ha chiesto di prorogare la validità delle graduatorie concorsuali RIPAM in scadenza il 31 dicembre. Il primo cittadino ha sottolineato la necessità di far fronte nel prossimo anno a nuove assunzioni attraverso il loro utilizzo per assumere giovani professionalità senza dover attendere i tempi lunghi di nuove ed onerose procedure concorsuali. Un contributo di 2.000 euro per dire no alla camorra, il Comune di Napoli si schiera per primo in Italia a sostegno dei nuclei familiari delle giovani vittime innocenti ed autorizza con una delibera digiunta la concessione di un sussidio straordinario. Sarà destinato alle famiglie di Luigi Galletta, Gennaro Cesarano e Michael Russo che versano in uno stato di particolare disagio socio-economico. In vista delle celebrazioni del 25 novembre per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'assessorato alle pari opportunità del Comune invita soggetti pubblici e privati e gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado a partecipare alla manifestazione di interesse per la campagna Svergognati. L'obiettivo è mettere a punto un programma di eventi e iniziative che si terranno dal 23 al 27 novembre sul tema della violenza di genere. Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il 21 ottobre all'ufficio dell'assessorato alle pari opportunità di Palazzo San Giacomo o via mail all'indirizzo in sovraimpressione.